Il ritornello tuttavia non cambia, parole e musica del Parma. Ecco Adriano, stop, tiro, rete. Quinto minuto, Torino 0, Parma 3, con il quarto gol in campionato di Adriano, che sfrutta l'assist di Nakata e l'esemplare stop di Petto. E, dobbiamo dire, copione analogo per il poker emiliano. Benarrivo ancora per Nakata, cross, colpo di testa e rete di Adriano. Il ventiduesimo minuto, Torino 0, Parma 4, il quinto centro stagionale per il brasiliano.